Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Questa settimana è finalmente arrivato il momento di parlare della stanza più importante del metodo delle cinque stanze, il climax narrativo a cui tutta la quest ha portato. Tutto quello che gli avventurieri hanno affrontato finora li ha diretti verso questa stanza in cui dovranno affrontare il loro combattimento finale o dovranno finalmente essere messi di fronte al reale motivo per cui hanno affrontato l'avventura. Nella stanza del climax dello scontro gli avventurieri andranno ad affrontare quello che è stato il loro antagonista durante tutta la storia ed è il momento in cui si raggiungerà la massima tensione narrativa all'interno del racconto collettivo. Se la vostra missione o il tipo di regolamento che state usando si concentra particolarmente sul combattimento questa stanza dovrebbe contenere l'incontro meccanicamente più interessante non necessariamente il nemico più forte o lo scontro più duro ma quello che abbia le meccaniche più complesse quello che possa davvero gratificare i giocatori per le loro scelte tattiche e per il modo in cui hanno costruito i loro personaggi. Se la vostra quest invece si basa sull'investigazione questa è la stanza dove il mistero verrà risolto e si scopriranno finalmente le vere motivazioni dietro le azioni dei vari png. Naturalmente queste cose non si escludono a vicenda. In una quest investigativa catturare o uccidere il criminale potrebbe essere altrettanto importante che scoprire chi è dove si trova e perché ha commesso i suoi reati e al contrario una quest basa sul combattimento scoprire quali sono le motivazioni e i piani del nemico potrebbe essere magari più rilevante per risolvere la missione che il fatto di averlo ucciso di per sé. Ovviamente però questi discorsi valgono se l'avversario se l'antagonista è di per sé un png. Se il party sta affrontando qualcosa di più immateriale come un disastro naturale o un qualche altro tipo di evento apocalittico questa è la stanza in cui i loro sforzi li portano a superare la minaccia. Potrebbe essere il posto in cui i giocatori trovano l'ultimo ingrediente che serve per creare la cura che debellerà la pestilenza che sta affalcidiando la popolazione. Il momento in cui riescono a completare il mistico rituale per chiudere il portale demoniaco e sventare l'invasione dei demoni nel mondo. O il momento in cui raggiungono una stanza di controllo da cui possono lanciare il missile che devierà l'asteroide che sta per colpire il loro pianeta. In casi come questo è meglio spostare la parte di azione della narrazione dalla stanza vera e propria ai corridoi che vi conducono. Magari per accedere alla stanza di controllo bisogna superare delle guardie che fanno perdere tempo con il combattimento o magari per qualunque motivo la posizione di questa ultima stanza non è predeterminata ma si sposta in base alle azioni dei giocatori facendola diventare più lontana più vicina comunque più facile da accedere o meno. Lo scontro stesso potrebbe spostarsi da una situazione più simile a un enigma che a un mostro. Magari per accedere alla console di controllo dei missili bisogna hackerarla o trovare la password che è nascosta da qualche altra parte e la sa solo un determinato png. Magari per effettuare correttamente il rituale per chiudere il portale demoniaco serve un complesso incantesimo i cui elementi sono sparsi nelle precedenti stanze del dungeon. Fondamentalmente qualunque cosa riesca a alzare la tensione e far tirare un sospiro di sollievo agli avventurieri quando finalmente riescono a raggiungere questo momento e si preparano per il momento culminante dell'esperienza narrativa è qualcosa di positivo è qualcosa che dovete cercare di implementare. Evitate comunque di rendere questa stanza un incontro superabile con un paio di tiri di dado principalmente perché è molto più interessante e molto più appagante per i giocatori conseguire la vittoria sulla Nemesi grazie alle loro abilità, le loro scelte, la loro interpretazione. Secondariamente perché c'è un'enorme differenza tra fallire la missione perché si sono sbagliate le scelte tattiche o perché si sono sbagliati dei ragionamenti e fallire la missione perché si è avuto una serie di tiri di dado troppo bassi e quindi ha vinto il nemico. Questa stanza deve servire appunto a gratificare i giocatori per le scelte che hanno fatto durante la quest qualunque queste siano e bisogna sempre evitare che sia proprio qui che i giocatori vengano frustrati da un tiro di dado troppo basso in un momento cruciale del combattimento contro l'avversario o della risoluzione del mistero. Avevamo lasciato la nostra squadra di agenti dell'inquisizione bloccata in un cunicolo all'interno della base dei cultisti. Una volta che hanno trovato il modo per uscire e quindi hanno avuto la possibilità di scegliere se fare una missione stealth o cominciare a sparare, in un modo o nell'altro adesso sono all'interno della base dei cultisti e non c'è storia. Con i cultisti non si può discutere, non li si può convincere a cambiare idea, devono essere fermati molto probabilmente uccidendoli. Quando i personaggi cominceranno a assalire i cultisti, tutta la banda si radunerà, compreso il loro capo, e si arriverà al momento del climax dello scontro. Il master potrebbe decidere che il capo del culto, prima di scendere in mischia, faccia un dialogo per far vedere il punto di vista dei cultisti o comunque spiegare le loro motivazioni. Questo avrebbe già potuto farlo quando ha fatto parlare ai cultisti tra di loro. Comunque il master non deve mai limitarsi a rendere le stanze una kill box in cui entrare e uccidere tutti, fine. Comunque per quanto questa possa avere una parte sociale, alla fine si risolverà mani in faccia. Gli agenti dell'inquisizione dovranno scontrarsi con i cultisti, ucciderne la maggior parte, catturare gli altri, uccidere il loro capo, comunque porre fine alla minaccia del culto e così riparare finalmente il guasto e salvare la vita alle persone. Questo è il momento culminante della loro quest, qua si decide se avranno successo o meno. La quest sarà terminata in maniera positiva, la quest avrà avuto successo, se vengono uccisi o messi in fuga dai cultisti, la loro quest sarà fallita. Ad ogni modo, dato che c'è ancora un altro episodio, molto probabilmente la loro quest riuscirà e loro andranno avanti. Diciamo che per ora è tutto, vorrei sapere da voi come gestite i vostri scontri finali, qual è il miglior climax che il vostro master vi abbia fatto incontrare. Come sempre se avete domande, dubbi o perplessità usate l'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.